L'aspetto principale di questo nuovo bando sulla imprenditoria è proprio quello legato alla confisca dei beni alla mafia, quindi un passo in avanti che può diventare un ulteriore volano per l'economia pugliese. E legato a questa possibilità l'ultimo avviso Nidi parte nel 2015, noi negli ultimi mesi abbiamo introdotto una modifica che consente l'estensione delle agevolazioni anche incrementate alle aziende confiscate alla mafia. Questa è una novità assoluta a livello italiano, frutto della collaborazione con l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, con cui la Regione Puglia è in costante contatto, collaborazione e costruzione di iniziativa comune. Ricordo che la giornata nazionale del 21 di marzo sarà celebrata da Libera in Puglia a Foggia. Per la prima volta queste imprese confiscate alla mafia rientrano nella categoria dell'economico, cioè possono avere quei vantaggi che sono dati ad altre iniziative d'impresa. Si prevedono ovviamente investimenti alti per questa specifica possibilità che l'investimento possa arrivare a 250.000 euro e l'agevolazione concedibile a 200.000 euro. Quindi si tratta sostanzialmente di mettere nelle condizioni i ragazzi, le cooperative che fanno questa attività di antimafia sociale nella possibilità di usufruire di queste agevolazioni di risorse pubbliche previste dal bando Nidi.